E' la primissima canzone, mi ha fatto battere forte il cuore. E' la prima volta che sento le canzoni di David fuori dalle mie cuffiette, fuori dalla mia camera. Partendo il fatto che la voce del cantante era incredibile, sembrava quasi di ascoltare David Bowie, era veramente tutto molto affascinante. E' stato bellissimo. Mi è piaciuto non tanto di più, veramente emozionante. Mi è piaciuto soprattutto con la chiave con cui è stato scelto di essere rappresentato. E' stato appassionante veramente dall'inizio alla fine. Bellissimo direi, divertente e da ballare. Darmel! E' stato bellissimo. Spettacolare. Stellare. Spettacolare. 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 Spettacolare.